Ben trovati a tutti a un nuovo appuntamento con il telegiornale dedicato alla sicurezza sul lavoro realizzato in collaborazione con l'ANMIL. In apertura purtroppo parliamo ancora di morti bianche perché sono state nove le persone che la scorsa settimana hanno perso la vita sul lavoro, tre lavoratori nel settore agricolo. La principale causa dei decessi è stato lo schiacciamento in quattro casi, seguito dalla caduta dall'alto in tre casi. Il più giovane a morire aveva soltanto 19 anni, mentre l'età media delle vittime è stata di 43 anni. Le regioni più colpite sono state la Sicilia, con tre morti, l'Abruzzo e il Veneto, con due ciascuna. Alle imprese edili virtuose INAIL riduce dell'11,5% i contributi per il 2008. L'incentivo per far rispettare la sicurezza sul lavoro prevede uno sconto che si applica agli operai edili con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e ai soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono lavorazioni in edilizia. La riduzione interessa soltanto la rata di regolazione del 2008 del premio infortuni. Per accedere al beneficio, le imprese devono presentare due autocertificazioni, la prima all'INAIL entro il 16 febbraio e la seconda alla Direzione Provinciale del Lavoro entro il 30 aprile. Per ulteriori informazioni basta collegarsi al sito www.inail.it Sono stati scoperti in Toscana nel 2008 dagli ispettori del lavoro più di 8.000 lavoratori irregolari, di cui 4.000 in nero. Il bilancio dei controlli della Direzione Regionale del Lavoro è di 7.259 aziende irregolari su 12.574 di 25.700.000 euro di contributi non versati recuperati in aumento rispetto ai 18.100.000 euro del 2007. Lo scorso anno, dichiarato il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro, Salvatore Fedele, abbiamo registrato un aumento del lavoro nero, ma questo non significa che il fenomeno sia effettivamente cresciuto. Più verosimilmente abbiamo mirato meglio la nostra azione ispettiva. Il settore con maggiore irregolarità è stato quello edile. I controlli hanno interessato 3.275 aziende e 1.666 cantieri, riscontrando irregolarità in 1.840 imprese ed elevando sanzioni amministrative per 3,4 milioni di euro e sanzioni penali per 2,7 milioni di euro. Dalla Francia arriva il viaggio virtuale in fabbrica, la scoperta dei rischi sul lavoro e delle misure per la prevenzione. Nuove frontiere in tema di sicurezza sul lavoro si aprono per gli addetti del settore. Il Ministro del Lavoro francese ha infatti creato un sito internet in cui si può visitare una fabbrica tipo riprodotta in una grafica tridimensionale con uffici, magazzini, aree di stoccaggio, carico e scarico delle merci e catena di montaggio con tutti i relativi potenziali pericoli. Il sito, pensato in maniera specifica per il personale e gli imprenditori delle piccole e medie imprese, mette a disposizione dei navigatori un ricco patrimonio di informazioni sulla sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli incidenti. Nell'area della catena di montaggio vengono riprodotte le singole mansioni con tutti gli elementi che possono originare un infortunio, mentre in un'altra schermata vengono mostrate le stesse operazioni seguite in modo virtuoso, elencando le norme di sicurezza da rispettare dalle apparecchiature di cui deve essere dotata l'azienda e dalle strumentazioni per il lavoratore al loro corretto utilizzo. Il portale mette a disposizione anche leggi, dati, dossier ed esempi concreti di buone prassi messe in atto da alcune imprese francesi. Al via il progetto della Regione Sicilia Agricoltura Sicura, concorsi di formazione gratuiti sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro. Il piano si rivolge agli imprenditori e a tutti i soggetti che hanno un ruolo in materia di sicurezza nelle aziende. L'iniziativa che rientra nell'ambito di quelle previste dal decreto legislativo 81 del 2008 non avrà costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione. L'assessore regionale per l'agricoltura Giovanni Lavia ha spiegato che proprio la limitata conoscenza da parte degli addetti nel campo della sicurezza e della salute dei lavoratori ha determinato negli ultimi mesi diversi casi di morti bianche e numerosi infortuni, oltre che malattie professionali. In questo modo, ha detto l'assessore, intendiamo attivare un percorso virtuoso finalizzato a colmare il gap tra conoscenze possedute e informazioni indispensabili per offrire un servizio di consulenza più efficace alle imprese agricole. Matteo Schianchi presenta la terza nazione del mondo, i disabili tra pregiudizio e realtà. Il titolo del libro, edito da Feltrinelli, nasce da una stima dell'ONU secondo la quale i disabili nel mondo sono circa 650 milioni, oltre il 10% della popolazione globale. Tutti insieme costituirebbero la terza nazione del mondo, dopo Cina e India. In Italia, invece, i 6 milioni di persone con disabilità potrebbero formare la seconda regione del paese, dopo la Lombardia. Secondo Schianchi, ogni anno si verificano in Italia 20 mila incidenti stradali e 20-30 mila infortuni sul lavoro con effetti invalidanti, mentre 1.800 persone si ammalano di distrofia muscolare. Ma l'autore ha sottolineato che il vero problema è che la maggior parte delle persone con handicap continua a essere esclusa dalla società e ha meno possibilità di inserimento. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale dedicato alla sicurezza sul lavoro. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata. Arrivederci.